Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Video che come avete visto dal titolo andremo a parlare, ovvero vi andrò a dare le mie opinioni per quanto riguarda il diesel HV. Apriamo parentesi, è da un po' che non vedete questo tipo di video sulla Formentor perché ultimamente vedete solo i video con la Tesla o linee dintorni perché abbiamo fatto un viaggio con la Tesla e bisognava comunque pubblicarli perché non posso pubblicarvi un video che ho fatto d'inverno con la neve ad agosto, non sarebbe coerente da parte mia o perlomeno io lo reputo non giusto nei vostri confronti, darvi informazioni dopo tanto tempo. Quindi se adesso vedete la serie della Tesla è perché voglio pubblicarla e voglio finirla di farvela vedere anche perché reputo che ci sono certe cose molto molto interessanti. Detto ciò torniamo a noi. Come avete visto sul canale ho già fatto un video per quanto riguarda il diesel HV, l'ho fatto un po' di tempo fa per la precisione più o meno all'inizio di dicembre dove ho cominciato a utilizzare il diesel HV. Vi lascio il link del video in descrizione dove lì vi spiego anche come fare per vedere se la vostra vettura è compatibile con il diesel HV, cosa dovete andare a vedere e vi spiego anche un pochino cos'è questo diesel HV. Quindi non starò in questo video a darvi le varie definizioni perché ci sono già nell'altro video. Come potete sentire, non so se lo sentite da questo microfono perché è un ottimo microfono, ma ci sono tanti ragazzi con la moto perché pure io, vedete, sono con la giacca leggera perché siamo precisamente al 4 di febbraio e fuori ci sono tipo 20 gradi? No, 20 no, però comunque ci avviciniamo parecchio, 15 gradi. Si sta benissimo. Detto ciò partiamo col dire come mi sono trovato io con questo diesel HV. Da quando ho cominciato a usare il diesel HV ho percorso poco meno di 4.600 chilometri. Fate conto che il diesel HV l'ho cominciato a usare all'inizio di dicembre e quindi sono due mesi, perché oggi è il 4 febbraio, due mesi che io utilizzo questo carburante. C'è stata una volta in cui mio padre ha fatto all'incirca una dodicina, quindicina di litri di diesel normale, nonostante io avevo detto di non fare gasolio, e da lì in poi ho sempre usato diesel HV, non ho più smesso. Quindi fate conto che effettivamente sarà poco più di un mese e mezzo che io utilizzo solo questo carburante. E vi dico che da quando ho fatto il tagliando che la vettura aveva poco meno di 43.000 chilometri, ho percorso ad oggi, 4 febbraio, 3.400 chilometri ragazzi, perché nell'ultimo periodo, se mi seguite sui vari social, soprattutto su Instagram, avrete visto che sono stato tanto in giro per delle questioni personali, per un viaggetto fatto, e poi per altre cose. Comunque vi basti sapere che ho viaggiato tanto. Come vi dissi nel video precedente, dove vi spiegavo le varie definizioni del diesel HV, vi dissi che c'era qualcuno che diceva che con questo diesel HV si consumava leggermente di più, diminuivano un po' le prestazioni e altre cosette leggende. Devo smentire questa cosa ragazzi, perché io nell'utilizzare la vettura non ho rilevato consumi più alti rispetto al normale, forse di qualcosina, ma una roba impercettibile, e poi non nel viaggio ma nell'utilizzo cittadino. Quindi se viaggiate addirittura forse consuma leggermente di meno ad altissime velocità. Ho rilevato un consumo leggermente inferiore al diesel combustibile normale, però sono cose impercettibili, nell'utilizzo di tutti i giorni non ho rilevato questo consumo in più o in meno. Oltre a questo ho rilevato però una cosa molto positiva, è che il motore è meno rumoroso e vibra di meno. Cosa vuol dire questo? Che quando si accende, quando parte lo start e stop, oppure la mattina col freddo, la vettura parte ma il motore vibra molto molto di meno. Perché? Perché questo diesel qui aiuta anche la combustione completa delle diesel che entrano nelle camere di combustione. Devo dire che nell'utilizzo cittadino, e io che a parte quando la vettura è fredda che disattiva lo start e stop, ma dopo successivamente quando la vettura è calda lo tengo sempre attivo, quando sto nelle varie code e nel traffico mi piace stare tranquillo, e poi effettivamente lo start e stop funziona sempre, forse a volte è un po' invasivo, ma non mi dà più di tanto fastidio, quindi io lo utilizzo tantissimo. Ah, un'altra cosa che ho notato e che mi è rimasta impressa, e che ultimamente ci sono state delle temperature sotto lo zero, la mia vettura sta di fuori in un'area privata, però comunque sta di fuori, subisce anche le temperature basse, la vettura ci mette un po' meno tempo ad accendersi rispetto al diesel tradizionale, ovvero quando io premo il tasto, lì sul cockpit davanti mi appare la scritta accensione motore, mentre lei in questi istanti scalda le candelette e poi accende effettivamente il motore. E questa cosa qui avviene molto più velocemente perché il diesel HW ha più cetani rispetto al diesel normale, infatti se vi ricordate dal vecchio video, il diesel normale va dai 51 ai 55 cetani, mentre il diesel HW va dal 75 ai 90 cetani, quindi i cetani è quella molecola diciamo che favorisce di più la combustione, è la molecola che prende più velocemente fuoco, adesso non vi sto a spiegare proprio la chimica. Un'altra cosa che mi è rimasta molto positiva per quanto riguarda la vettura è che ultimamente non vedo entrare in rigenerazione la mia vettura, ovvero c'è da dire che io adesso faccio 40 km al giorno, 22 la mattina e 23 e qualcosina la sera, comunque faccio tutte strade scorrevoli, ho due rotatorie sia all'andata che al ritorno, ma per il resto faccio strade molto scorrevoli. La vettura riesce ad entrare in temperatura tranquillamente, entra in temperatura del liquido refrigerante, l'olio motore e anche il cambio. Devo dire che ultimamente adesso sto tenendo d'occhio i vari chilometri, all'inizio quando ho cominciato a usare il diesel HW la vettura mi entrava in rigenerazione anche dopo meno di 200 km, ciò che con il gasolio normale la vettura mi entrava in rigenerazione dopo 300-350 km con un utilizzo misto, quindi un 50% extraurbano e un 50% città. Questa cosa qui all'inizio non mi è piaciuta tanta perché è andata avanti per un paio di settimane, forse qualcosina di più, ma penso sia dovuto al fatto che doveva ripulire completamente la camera di combustione, proprio perché il diesel HW dalle varie fonti che abbiamo visto dichiarano, perlomeno dichiarano, poi sarebbe da aprire il motore e vedere se effettivamente fa questa funzione qui, dichiarano che pulisce completamente il motore. Dichiarano anche che il combustibile HW è completamente pulito e in teoria se è completamente pulito dallo scarico ci dovrebbero uscire le farfalline, adesso si fa per scherzare, comunque dovrebbe uscire sostanze innocue a noi esseri umani e all'ambiente. Questa cosa qui non ne sono certo al 100%, però ho notato anche che se sto fermo con la vettura accesa, ad esempio magari non nel traffico perché forse lì si sente l'odore delle altre vetture, visto che ancora qualcuno tiene le vecchie vetture e vecchie parlo di vecchie vecchie vetture, tanto vecchie, oppure magari ad esempio sto aspettando qualcuno in qualche posto dove ci sono solo io e tengo la macchina accesa magari perché ho freddo e magari perché non entra lo start e stop, perché lo start e stop se la vettura è tanto fredda non entra e non avverto quello sgradevole odore. Quindi vi dicevo prima per quanto riguarda le rigenerazioni della vettura, adesso le sto tenendo d'occhio e sto cercando di capire ogni quanto tempo fa le rigenerazioni, quindi la polizia del FAP. C'è da dire che, vi ripeto, ultimamente facendo tanta strada scorrevole sono molto più avvantaggiato per quanto riguarda le rigenerazioni ed è anche vero che ultimamente i percorsi cittadini brevi oppure proprio dove utilizzo tanto la vettura in città sono molto diminuiti, quindi adesso l'utilizzo della vettura che ne faccio io è un 75-80% extraurbano con strade scorrevoli e un 25-20% di città. Detto ciò ragazzi vi aggiornerò per quanto riguarda le varie rigenerazioni di questo gasolio, vi preannuncio già che farò un video per quanto riguarda il motore diesel e i viaggi e vi preannuncio già che questo carburante qui è molto molto favorevole per i viaggi. Per quanto riguarda il prezzo nel vecchio video vi avevo detto che costava 10 centesimi in meno al litro rispetto al gasolio tradizionale e che in teoria quando feci quel video lì le varie fonti che trovai era che a inizio del 2024 questa cosa doveva sparire, doveva ritornare a costare il prezzo che costava precedentemente. Questa cosa non è avvenuta perché tant'è che il diesel HW continua a costare 10 centesimi al litro in meno rispetto al diesel tradizionale e vedremo fino a quando continuerà questa cosa qui. Detto ciò ragazzi finita la papardella, spero che vi sia stata interessante, vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale, come potete vedere cerco di darvi informazioni testate e verificate effettivamente, quindi se volete supportarmi vi chiedo di iscrivervi al canale, vi invito anche a commentare, a farmi qualsiasi domanda nei vari commenti. Grazie di aver visto questo video, arrivederci e al prossimo video!